Continua la telenovela sul call center aquilano Globe Network che il 30 giugno rischia di perdere 234 lavoratori. Il motivo? L'azienda H3G che lavora per conto della compagnia telefonica 3 ha annunciato che il 30 giugno firmerà la disdetta lasciando a piedi intere famiglie. Un incubo che non vogliono assolutamente vivere né i lavoratori né i sindacati che li stanno supportando in questa battaglia. Dopo la vibrante protesta di venerdì scorso nei pressi della caserma Pasquali in occasione del passaggio del Giro d'Italia di cui la tre è sponsor, nelle ultime ore è intervenuto sulla spinosa questione anche il vicepresidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli, a margine dell'incontro tenuto a Palazzo Centi tra i responsabili del call center, i lavoratori e gli esponenti delle sigle sindacali. Un accordo tra il committente H3G e un operatore di un call center del sito Aquilano capace di garantire l'occupazione delle 234 unità che a fine giugno potrebbero ricevere la lettera di licenziamento da Globe Network a causa della disdetta dell'unica commessa lavorata. Questa la proposta di Lolli che ha assicurato come la vertenza sia l'attenzione del governo e che si farà carico nei prossimi giorni di promuovere un tavolo per difendere tutti i lavoratori coinvolti.